Paolo è andato in vacanza con Anna. Torniamo a casa dopo le vacanze. Ho preso una macchina da caffè. Siamo andati da Napoli a Firenze. Gli operai finiscono a novembre. Ti spedisco il pacchetto per posta. Ho visto alcuni amici di passaggio. Ho trovato questi libri in soffitta. Chiediamo a lui di accompagnarci. Domani devi andare da tua sorella. Questa sera vado in centro con lui. Ho spedito una lettera a Londra. Lisa è andata a farsi visitare. Ho bisogno di una risposta da te. Claudia è con Luigi dal gelataio. Oggi esco di casa dopo cena. Ho bisogno di un caffè con latte. Luca è uscito di strada con l'auto. Non so come dirlo a mia mamma. Ti spedisco il pacchetto per posta. Ho visto mio cugino in bicicletta. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.